C'è tanto entusiasmo prima di tutto e soprattutto insieme all'allenatore e allo staff tecnico stiamo cercando giorno dopo giorno di inserire ogni cosa che il mister ci dice per cercare di partire con il piede giusto per la prima di campionato. Abbiamo conosciuto da pochi giorni la nostra prima squadra che affronteremo però già stiamo lavorando per affrontarla. È stato un ritiro abbastanza intenso, duro ma soprattutto molto piacevole dove ci siamo conosciuti con i compagni perché molti di noi siamo nuovi e abbiamo fatto subito amicizia e l'importante penso sia quello. Uno dei punti fermi visto fino ad oggi nello scacchiere il mister Sottili è la difesa a quattro. Che cosa chiede principalmente ai terzini mister Sottili e poi anche qual è l'obiettivo dell'Arezzo per il prossimo campionato? Senza dubbio noi siamo una squadra che non ha paura e il mister ci sta soprattutto chiedendo di non aver paura dell'uno contro uno perché alla fine se tu vinci più uno contro uno con gli avversari riesci a vincere più partite ma che penso sia quello lo schema tra virgolette. Il mister Sottili ci fa sia difendere che attaccare con consapevolezza dei nostri mezzi. Ci sta insegnando tanto, mi sta insegnando tanto e sono molto contento di questa nuovissima esperienza. Gli obiettivi purtroppo questa magari è una domanda che ogni anno inizio stagione si fanno. Io come ho sempre detto non faccio mai promesse però chiedo sempre di starci vicino perché insieme possiamo raggiungere grandi cose, fare grandi cose e soprattutto raggiungere quei sogni che magari ognuno di noi ha nella propria testa. Io è il settimo campionato di Lega Pro, le mie partite ne ho fatte tante e spero magari di riuscire in un prossimo futuro a cercare di fare questo scalino perché è veramente duro farlo. Giorno dopo giorno lo sogno e mi allenerò giorno dopo giorno per cercare di farlo, spero con l'Arezzo.